Sono dotati della tecnologia con effetto cuscinetto d'aria. La lama è disegnata con sette scanalature a forma di onda. Il coltello scivola attraverso qualsiasi cibo, grazie al cuscinetto d'aria che si crea. Compreso nel prezzo, il coltello principale con tecnologia Airwave. È dotato di... Compreso nel prezzo, il ceppo in legno. A 69,90€. A 69,90€. A 69,90€. A 69,90€. Non perdere un attimo e aggiungi subito il prodotto al tuo carrello. Prezzo, il ceppo in legno. A 69,90€. A 69,90€. A 69,90€. Non perdere un attimo e aggiungi subito il prodotto al tuo carrello. Compreso nel prezzo, il ceppo in legno. A 69,90€. A 69,90€. A 69,90€. A 69,90€.